Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Sulla Firenze Mare segnaliamo controllo della velocità in corso tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze. In Fipili restano rallentamenti per cantieri tra Montelupo e Ginestra in direzione del capoluogo. Uno sguardo alle statali ricordiamo le chiusure per cantieri sulla statale 67 all'altezza di Compiobbi nel comune di Fiesole. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ultima pagina per il traffico ferroviario regionale 2306 Roma Termini, Firenze e Santa Maria Novella sta viaggiando con 28 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione è al momento previsto alle 11.25, salvo recupero. E prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Pisa-Dublino delle 10.25 è al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!